Luca, una partita sfortunata, ce l'abbiamo messa tutta, forse ci manca un po' di cattiveria, dici tu? Sì, sì, sicuramente la partita, forse abbiamo pagato un attimo l'inizio, ma poi è stata interpretata bene, c'è stata la giusta intensità, la giusta voglia anche di rifarsi dopo aver subito un gol, quindi la giusta reazione. Manca un po' forse di convinzione, la convinzione è che ce la possiamo davvero giocare con tutti e non bisogna mai, mai, mai veramente darci per vinti. Non l'abbiamo fatto assolutamente, ma sì, forse quel qualcosina di convinzione in più, sicuramente che queste due partite magari ci possano aver maturato, ci servirà in futuro. C'è gioco, c'è anche la consapevolezza che sarebbe stato un avvio difficile, adesso Ascoli e poi Palermo settimana di fuoco. Sì, 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 sarebbe stato difficile l'inizio, che non avevamo partita assolutamente semplici, perché comunque tante sono in trasferta, ma non ci abbatteremo assolutamente per nulla perché il campionato è ancora lungo e abbiamo tutto il tempo per risollevarci.